ciao a tutti ragazzi benvenuti sul canale io sono marzi lascio questo video per informarvi che ho aperto un canale dailymotion per cui potete trovare i glitch che a voi interessano lascio il link in descrizione iscrivetevi al canale commentate insomma iscrivetevi ragazzi i glitch che cercate stanno lì ciao a tutti